Una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati cari telespettatori di FaroTV, oggi è venerdì 12 agosto 2022, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno che tra poco inizierà con la lettura dei giornali, i titoli delle notizie che abbiamo selezionato per voi questa mattina come sempre, però prima il santo, l'almanacco e poi il tempo per la giornata di oggi e per questo fine settimana, oggi è Santa Giovanna Francesca de Chantale, il sole è sorto alle 6.08, tramonterà alle 20.19. Andiamo subito sulla rotonda di Senigallia, la spiaggia di Velluto di Senigallia, guardate che meraviglia questa mattina, non c'è il sole però, forse in questo momento è oscurato da una nuvoletta di passaggio, comunque guardate che bella immagine che vi arriva dalla Skyline Webcams e con i primi movimenti che stanno animando questa giornata, questa è Senigallia come dicevo, adesso invece andiamo a vedere il tempo, previsioni per la giornata di oggi con il bollettino della protezione civile delle Marche, vediamo subito le previsioni, ecco qua, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso in mattinata, specie nel settore centro-settentrionale per l'alternanza tra schiarite e nuvolamenti più intensi, qualche possibilità di pioggia in mattinata nel settore centro-settentrionale, poi nel pomeriggio invece possibili locali rovesci o temporali nel settore interno della regione, per domani siamo a sabato 13 agosto, allora vedete la pioggia, la pioggia che dagli appennini si sposta anche un po' sull'Anconetano, sulla spiaggia, sulla costa, possibilità di locali rovesci tra la mattinata e il primo pomeriggio, specie nel settore interno, poi domenica invece torna a splendere il sole su tutta la regione, su tutta la costa adriatica, un po' di annuvolamenti, ma insomma le solite cose che avvengono durante l'estate, in particolare sui rilievi, probabili condizioni di tempo soleggiato anche nella giornata di lunedì con al più dei brevi e locali fenomeni pomeridiani sui rilievi, diamo un'occhiata velocemente anche alle temperature previste per le ore 14 di oggi, vedete sono in calo rispetto alle giornate scorse, di solito si toccavano i 30-32 gradi, invece siamo qualche grado in meno. Adesso i giornali invece, cominciamo dal Corriere Adriatico, come sempre edizione di Peser Urbino, fondi per le scogliere a Levante, sono 11 le barriere che rifioriranno, lavori nel 2023, scattano le procedure per il progetto esecutivo, per l'operazione contro l'erosione saranno utilizzati massi naturali, l'ultimatum per sottomonte. Invece a centropagina, ecco come saranno le terme di Carignano, siamo nel Fanese, piace lo stile architettonico e il progetto presentato alla giunta di Fano. Poi verso il voto, caso Castelli, la candidatura ad handicap dell'assessore, lo strano caso dell'assessore regionale in quota Fratelli d'Italia Guido Castelli, che nonostante sia una macchina macina voti, nel senso che ne prende tanti, ogni volta che si candida, è stato per tanti anni sindaco di Ascoli con delle percentuali bulgare, ma insomma anche recentemente alle regionali, sapete, ha ottenuto, è stato il secondo, se non ricordo male, il secondo consigliere più, il secondo politico più votato dopo Biancani, insomma quindi è una macchina macina voti. Al momento però non sarebbe in lizza per una candidatura in Parlamento nei collegi uninominali. Per lui starebbe profilando soltanto un posto nei listini e secondo alcuni neanche nelle prime due caselle, quindi un'operazione che punterebbe a depotenziarlo. Mentre sulle altre notizie, sempre in prima pagina, abbiamo da Pesero al Palazzo Comunale il nuovo ingresso, l'idolino e gli specchi, stiamo parlando, lo vedremo tra poco, del Palazzo Comunale di Pesero, quindi dell'ingresso, quello che appunto accoglie i cittadini. Poi la Goletta Verde, e questa è una buona notizia, Foglia e Arzilla, due foci in salute. Mentre stato di emergenza, per l'allarme siccità, partita la richiesta, quindi la richiesta che riguarda tutta la regione, non soltanto la provincia di Pesero Albino. Poi nel cantiere paralizzato spunta la pala meccanica, i lavori a Fano sono fermi da tre mesi in via risorgimento, pressing del Comune per realizzare il parcheggio. Dunque dopo l'interrogazione della Lega discusse il 28 luglio scorso, qualcosa si è mosso nel cantiere del parcheggio di via risorgimento, recintato e inattivo da tre mesi. È spuntata una pala meccanica che però resta immobile, pressing del Comune per la ripresa dei lavori al fine di ridurre temporalmente i disagi per l'area indisponibile. Poi invece ad Urbino il rettore dell'università replica le critiche, l'università dice è aperta e attiva. Mentre il resto del carino a centropagina pubblica la fotonotizia che arriva da Gabice Mare, dove è stata inaugurata la palafitta restaurata, simbolo del turismo e confine con la Romagna, a Mississippi è rinata una stella. Siamo partiti con la rassegna stampa facendovi vedere sullo sfondo la rotonda sul mare che appunto sta a Senigallia e qui invece adesso non è proprio uguale insomma, però sta sempre sull'acqua. Il PD cede il collegio alla sinistra e il prezzo dell'alleanza. Maria Cecilia Guerra di articolo 1 è il nome che circola per l'uninominale. Poi la paura dei consumatori a ottobre che cosa succederà? Pellet, la corsa folle dei prezzi e l'ombra della speculazione. Un sacchetto costa più del doppio e di questo ovviamente dovremmo farci l'abitudine perché a ottobre, stando le previsioni appunto, poi non sappiamo se è speculazione o altro, ma comunque i prezzi, tutti i prezzi aumenteranno. Con la luce di Pavarotti, Pesaro brilla invece a Los Angeles, il maestro nella Walk of Fame, mentre sul Roff, la passione per Rossini mi fa da guida, parla Carlo Lepore e poi da Urbino. Festa del Duca, via alle danze, in campo anche arcieri e cavalieri. Sotto invece abbonamenti VL oggi si svelano in segreti, appuntamento alle 17 in comune per i tifosi e poi scuola di Borgo, si va verso la distruzione di questo muralis che vedete nella fotografia, ma c'è un appello lanciato da una maestra che chiede di salvarlo. E adesso le pagine interne subito con la cronaca che arriva dalla pagina di Fano, eccola qui, aggredita perché la piccola piangeva, ma emerge un'altra verità, indaga la polizia. Il fatto è avvenuto su una spiaggia i cui clienti smentiscono la ricostruzione della turista che ora vuole denunciare la vicina di Ombrellone. Il pezzo di Tiziana Petrelli che dice, e comincia così, non tornerò più a Fano in vacanza, racconta di essere stata aggredita in un bagno di Sassonia tra l'indifferenza della gente, la bolognese Emanuela di 52 anni, mamma single di una bimba che compierà tre anni il prossimo ottobre, ma emerge anche un'altra verità. Dicono i titolari della spiaggia, noi non eravamo presenti a questo diverbio e non sappiamo come siano andate le cose, per cui abbiamo semplicemente spostato la turista in un'altra parte della spiaggia, anche perché la versione dei nostri clienti è ben diversa dalla sua, ma su questo punto poi sarà la procura di Pesero a dover fare chiarezza. Intanto la fotografia di questo livido dietro al collo. Allora, che cosa dice lei? Sono stata aggredita dalla mia vicina di Ombrellone in spiaggia e nessuno dei presenti ha fatto nulla per aiutarmi. Il titolare della concessione è al posto di far allontanare la donna che mi ha aggredita colpendomi violentemente alle spalle con una racchetta da paddle hanno fatto cambiare di ombrellone me posizionandomi in una zona meno confortevole di quella per la quale ho pagato. Oggi ho paura a stare qui in spiaggia perché quella donna è ancora lì al suo posto impunemente. Tutto è successo intorno alle sei e mezzo del pomeriggio, di martedì pomeriggio, racconta ancora il giornale, e insomma la mia vicina di Ombrellone a lei dava fastidio che mia figlia di tre anni, la piccola, piangesse. Quindi ha cominciato a urlare eccetera eccetera. Insomma c'è tutto il racconto che potrete leggere sulle cronache, sulle colonne di Fano del resto del Carlino. Insomma ha fatto stare che poi è arrivata la polizia, è scattata la denuncia il giorno dopo, però adesso bisognerà capire da che parte sta in sostanza la verità. Intanto da Fano, la pagina invece del Corriere Adriatico è sui lavori fermi da tre mesi. In questo parcheggio di via Risorgimento ha ancora bloccato questo cantiere, spunta però l'escavatore, questo che vedete nella fotografia, però è ancora lì fermo ma senza che nessuno appunto sia lì a manovrare. Birra d'Augusto tra show di cucina e musica invece di taglio basso nella nuova sede della Rocca da stasera a martedì. Appunto c'è questa iniziativa, la birra d'Augusto nel suo formato tradizionale che appunto proporrà anche cibi regionali e etnici. Sempre dal Corriere Adriatico ecco come sarà, attraverso questo rendering che pubblica il giornale, come sarà la nuova Terme di Carignano. Architetture eleganti nell'ambiente, piace il progetto delle nuove Terme, l'Avvocato Natale ha anticipato il rendering alla Giunta Comunale, in autunno poi ci sarà la presentazione ufficiale alla città. La clinica estetica e di riabilitazione, le nuove costruzioni progettate a Carignano si riducono sostanzialmente ad un nuovo albergo con 132 camere, il più grande comunque del circondario, e alla struttura sanitaria di riabilitazione su cui però permangono ancora alcuni interrogativi, nonostante l'una sia funzionale all'altra e viceversa. Adesso invece sotto, dopo le ferie, consiglio monografico con Acquaroli, la richiesta di 5 Stelle senza ospedale unico inevitabile alla cancellazione di Marche Nord, noi siamo stati lungimiranti. Mentre Seneca-Lido non piace esattamente questo progetto, pare una cucina piastrellata, ci sono delle critiche per questo progetto di riqualificazione con mattonelle lungo il muretto che rimandano all'opera del grande grafico, appunto Seneca, la visione è un po' domestica. Insomma, questo è un po' il parere di qualcuno che non vedrebbe così di buon occhio questa nuova idea. Mentre sul nuovo ingresso del Palazzo Municipale di Pesero ci sono questi grandi specchi, la statua dell'idolino, la bacheca digitale con le informazioni, insomma, così i pesaresi verranno accolti prossimamente, insomma, con questo nuovo ingresso. Il Presidente del Consiglio Marco Perugini e l'architetto Corbo anticipano l'operazione di restyling. Adesso invece andiamo a vedere la pagina di Senigallia, siamo sempre sul Corriere, lotta ai venditori abusivi in spiaggia, più vigili in servizio e nuovi mezzi. Volantini e spot radiofonici anche per poter informare i bagnanti sui rischi legati agli acquisti. È in attesa della visita però lui le ruba il portafogli. È stato denunciato dai carabinieri di Senigallia un 62enne veneto per furto che ieri mattina, questo veneto, ha rubato un portafogli all'interno di un ospedale ad una donna che era in attesa di una visita oculistica. Viaggi shock, bulli, ubriachi. Dopo la serata in discoteca, un capotreno preso a sputi, allarme dopo la dipendente di rete ferrovie italiane aggredita a Senigallia, ora basta, servono soluzioni. Questo è l'articolo che troverete sul Corriere di Ancona e fa riferimento anche all'altro episodio raccontato sempre dal giornale dove appunto nella giornata di ieri, sempre sul treno, una coppia è stata denunciata perché è un discorso che riguarda, come vedete, un pezzettino di carte che era stato buttato a terra, uno gli aveva chiesto di raccoglierlo, insomma è successo una rissa a bordo di questo treno, la capotreno è stata aggredita, i passeggeri, insomma tre feriti in tutto, per dirvi un po', per sintetizzare senza stare e ritornare indietro. Allora, allarme si cita invece la regione, chiede lo stato d'emergenza, l'istanza è stata presentata nella giornata di ieri, le situazioni peggiori nell'Ascolano e nel Pesarese, i comuni e le Ato hanno sostenuto spese straordinarie per oltre 15 milioni di euro, per l'esattezza si parla di circa 700 mila euro di spese straordinarie da parte dei comuni e di circa 5 milioni e mezzo di euro da parte degli Ato, oltre a 10 milioni di euro, sempre da parte degli Ato, da destinare a interventi strutturali in prospettiva. Ora, le situazioni più difficili, come abbiamo già detto più volte, e lo ribadisce appunto anche la regione, sono in provincia di Peso Rubino e in quella di Ascoli Piceno. Vanno un po' meglio invece nelle altre regioni, o meglio, Macerata boccheggia soprattutto in montagna per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico per gli animali, mentre i comuni che in qualche modo hanno avuto minori disagi sono quelli, le province più che comuni, le province di Ancona e di Fermo. Ora arrivano i fondi dalla regione, invece a Levante rifioriscono 11 scogliere, siamo sul Corriere e qui i lavori si riferiscono ai lavori di Pesaro, quindi alle scogliere del tratto di mare Adriatico a Pesaro. Nel 2023 ci saranno questi lavori, scattano le procedure per il progetto esecutivo, saranno utilizzati massi naturali. E come sempre il Corriere pubblica un grafico che fa una sintesi di tutte quelle che sono le tappe, le ripartizioni dei costi e tutto ciò che può essere interessante. Intanto, a proposito di costi, di soldi, ma soprattutto dei nostri soldi, quelli che dovrebbero stare nelle nostre tasche ma che ce ne stanno sempre di meno, fuga dal gas per le bollette astronomiche, schizzano i prezzi del pellet e della legna, timori per la stretta al metano in inverno, tornano di moda a stufe e camini ma la speculazione dilaga, i costi sono praticamente raddoppiati. Dunque, con questo fatto che l'Unione Europea ha voluto rinunciare al gas russo, ecco, ci stanno mettendo tutti alla canna del gas veramente e per questa guerra che hanno voluto gli americani e che ci è piombata addosso e che dobbiamo subire, eccola qua. I risultati li vedremo tutti ad ottobre e sarà pianto estridore di denti. Comunque, questo è, ho pagato la legna 17 euro al quintale contro i 10 dell'anno scorso, ricordo che il 25 ottobre si vota, quindi vedete un po'. Urbino, l'università è aperta e attiva, matricola in crescita da 15 anni, il rettore Calcagnini replica con garbo alle critiche degli agenti immobiliari, tratteniamo, dicono i nostri giovani. Avvocato e docente gentile colto, addio a Filippo Marra, sempre dalla pagina di Urbino, il funerale ieri pomeriggio nella storica chiesa di San Bernardino, la basilica che guarda di rimpetto la magnificenza del centro storico di Urbino, dell'avvocato, l'ultimo saluto all'avvocato Filippo Marra, 80 anni, professionista e docente di diritto, apprezzato ed appassionato non solo nella pratica forense, ma anche nella dottrina e nelle ricerche storiche. Poi l'ingresso del Duca incanta il centro storico, sempre dalla pagina di Urbino, molto pubblico, oggi previsti 30 spettacoli e anche il Carlino dedica questa prima pagina a questa storica rievocazione. La città ha accolto Federico, ora si fa festa, rievocato l'ingresso del Montefeltro nel 1444, oggi una giornata ricchissima di appuntamenti, spettacoli e di incontri culturali. Poi c'è una breve qua sopra che potrebbe interessare molti dei nostri telespettatori che ci seguono con attenzione da Urbino, ordinanza sull'uso dell'acqua potabile, attenzione ai divieti per orti e giardini, si ricorda che è in vigore l'ordinanza per il controllo e la limitazione della risorsa idrica col divieto di irrigazione e annaffiatura di orti e giardini, esclusi lunedì e giovedì dalle 21 alle 24. Questo per quanto riguarda Urbino. In fondo invece di taglio basso, fiamme gialle, cambio al vertice, il nuovo capitano è Pietro Cesarano. 27 anni, è il nuovo capitano delle fiamme gialle e Urbino, l'arriato in legge, è nato a Castellammare di Stabia. Questa invece è l'ultima pagina che abbiamo selezionato per questa rassegna stampa, Pavarotti nella Walk of Fame, così Pesaro brillerà a Hollywood. Sarà dedicata al maestro Una Stella nella passeggiata delle celebrità, la cerimonia il 24 prossimo, trasmessa in diretta in città. Delegazione cittadina a Los Angeles, coinvolto anche il locale di Del Piero. Tra Luciano e il Roffo c'è un filo sottile, quel concerto del 1986 con 7 mila presenze, così rinsalderemo il legame con gli Stati Uniti. È tutto, grazie per aver seguito la rassegna stampa di oggi, vi auguro una buona giornata e vi do come sempre appuntamento questa sera con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.